Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Radio ABM dedicato all'emergenza coronavirus. Oggi leggeremo un inserto che abbiamo trovato nell'edizione del Corriere delle Alpi, proprio quella della giornata odierna, ovvero di lunedì 30 marzo 2020. Un inserto dedicato, diamo subito uno sguardo al titolo appunto di questo speciale del Corriere delle Alpi. Virus guida a non perdere le scadenze. Fisco, pensioni, bonus, nuovi termini, agenda di emergenza. Quali sono le date da non dimenticare assolutamente per non incappare in possibili sanzioni o nella perdita di agevolazioni concesse dallo Stato. Leggiamo quindi il sommario di questo inserto, di quello che troveremo. Bonus e benefici del decreto Cura Italia, quali come e quando si possono già chiedere, dagli atti notarili alle multe scontate, i chiarimenti sulle pratiche sospese, assegni previdenziali, rivisto il calendario, tutti i provvedimenti per le categorie, cartelle esattoriali, avvisi bonari, come evitare le insidie nascoste e ancora vita di condominio, i lavori, le regole e i comportamenti anti-contagio. Passiamo quindi subito al primo tema riferito a questo inserto del Corriere delle Alpi, mutui, prima casa, le regole, voucher, babysitter e bonus autonomi. Un codice per la richiesta. Dai bonus mutui arrivano nuove istruzioni per i benefici inseriti nel decreto Cura Italia. L'Inps ha introdotto una serie di novità che entreranno in funzione dal primo aprile e che renderanno più veloce la modalità di accesso alle misure di sostegno attraverso il portale MyInps. Ma diamo uno sguardo quindi alle misure e alle scadenze, assistenza bimbi, i fondi. In alternativa al congedo di 15 giorni dal primo aprile si può chiedere il bonus babysitter per dipendenti iscritti alla gestione separata e autonomi. Il bonus è di 600 euro, mille per gli operatori di sanità e sicurezza impegnati nell'emergenza. Si può usare per pagare la collaboratrice già a contratto. Gli statali si rivolgono al proprio ente, gli altri al datore di lavoro all'Inps tramite il sito. Per usarlo serve iscriversi al servizio Libretto Famiglia, la procedura la troviamo sempre all'interno di questo inserto. Luce e gas, lo sconto, il bonus sociali, gli sconti sulle bollette di luce, acqua e gas per famiglie e persone disagiate e per i titolari di reddito di cittadinanza. In scadenza tra il primo marzo e il 30 aprile potranno essere rinnovati entro il 30 di giugno. Ma continuiamo con le misure. Siamo al punto 3, i nuovi buoni famiglia con un'ordinanza di protezione civile. Il governo ha previsto la distribuzione ai comuni di 400 milioni di euro da trasformare in buoni spesa destinati a chi ne ha particolarmente bisogno. Il finanziamento che viaggia insieme all'anticipo di 4,3 miliardi del Fondo Solidarietà dei Comuni sarà ripartito tra le diverse civiche amministrazioni con criteri basati sul minore reddito pro capite e sul numero degli abitanti. Le pratiche per i 600 euro al link sul sito Inps dal primo aprile. Gli autonomi potranno chiedere il bonus da 600 euro esentasse con una procedura a cui si accederà grazie al PIN semplificato. L'aiuto ai professionisti, anche per i professionisti iscritti agli enti di previdenza privati, arriva attraverso il reddito di ultima istanza. Un bonus da 600 euro lo prevede il decreto firmato dal Ministero del Tesoro e del Lavoro. Il bonus andrà chiesto direttamente alla propria cassa e sarà erogato a chi ha un reddito fino a 35 mila euro o tra i 35 e i 50 mila euro e ha subito un calo di attività di almeno il 33% nei primi tre mesi del 2020. Il sostegno alle imprese, moratoria delle banche alle piccole e medie imprese, si intendono quelle fino a 250 addetti e fatturato non oltre i 50 milioni, che lo richiedono il congelamento al 30 settembre delle linee di credito per la moratoria. Le piccole e medie imprese inviano una richiesta via PEC autocertificando il danno subito. Il MEF consiglia di contattare prima la banca per valutare anche le offerte di moratoria come quelle previste dall'accordo Abiconfindustria. Il settore agroalimentare, punto 7, l'Istituto per i Servizi per il Mercato Agricolo, Ismea, ha preso una serie di provvedimenti per sostenere il comparto agricolo, tra questi lo stop di tutte le rate dei mutui con scadenza nell'anno 2020. La quota capitale delle rate sospese potrà essere rimborsata nell'anno successivo a quello di conclusione del finanziamento, mentre gli interessi saranno inseriti nel debito residuo e ammortizzatori nel corso del piano. L'indennità INAIL, punto 8, per le prestazioni economiche non continuative come l'indennità giornaliera per inabilità, l'INAIL invita i suoi assistiti a indicare il proprio codice IBAN durante la compilazione della pratica. Per le prestazioni continuative, le rendite, l'accredito sul libretto bancario o postale avverrà negli sportelli postali secondo questo calendario già definito anche per i prossimi mesi, ovvero entro domani per le rendite di aprile, dal 27 aprile al 30 aprile per il mese di maggio, dal 26 maggio al 30 maggio per le prestazioni del mese di luglio. Ma torniamo indietro, vediamo le misure e le scadenze, vediamo innanzitutto quello che troviamo in questa edizione, bonus sociali utenze, arera proroga di 60 giorni, termini per la richiesta del rinnovo dei bonus sociali per acqua, luce e gas in scadenza dal 1 al 30 aprile, nel frattempo le agevolazioni restano in vigore. Accertamenti esecutivi, chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, gli accertimenti esecutivi vanno pagati entro il 15 di aprile e non il 31 maggio, atti in scadenza, i termini ripartono dal 16 aprile. Tessera sanitaria e comunicazioni, banche, assicurazioni, enti previdenziali, Aselinido, ma anche i veterinari hanno tempo fino al 31 marzo per inviare all'Agenzia delle Entrate i dati necessari alla dichiarazione dei redditi precompilata. Adempimenti fiscali, gli adempimenti tributari da effettuare tra l'8 marzo e il 31 maggio slittano senza sanzioni al 30 giugno. E ancora procedure di mediazione, tutto sospeso fino al 15 di aprile, successivamente si potrà procedere anche in videoconferenza, sospesi i termini anche per la negoziazione assistita obbligatoria. Pagamenti INAIL, nuovi metodi di pagamento per le prestazioni non continuativi, bisognerà presentare l'Iban, mentre per le prestazioni continuative è stato predisposto uno specifico calendario di accesso agli uffici postali. Approvazione bilanci per l'azienda è stato esteso da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il termine per approvare il bilancio ha messo il voto in assemblea in modalità telematica. E ancora udienze tributarie, le udienze in programma dal 9 marzo al 15 aprile sono sospese e rinviate d'ufficio a data da individuare successivamente al 15 di aprile. Altre novità, altre informazioni, i casi dal notaio sono per atti urgenti. Il pagamento, multe scontate per 30 giorni, con una circolare del Ministero dell'Interno è stato chiarito l'arco temporale in cui resterà in vigore la possibilità di pagare con lo sconto una multa. Nello specifico è stato precisato che il periodo di 30 giorni entro il quale si può pagare una multa con lo sconto del 30% vale per le infrazioni notificate dal 17 marzo al 31 maggio. In periodi normali lo sconto del 30% sul verbale se effettua se il versamento avviene entro 30 giorni. I giochi, lotto, vincite, incassate dopo. Il calendario, gli accertamenti esecutivi, i termini per contestare una richiesta di pagamento davanti alla Commissione Tributaria sono sospesi e riprenderanno il 16 aprile prossimo salvo l'eventuale concessione di ulteriori proroghe. Farmaci, ricette elettronica a domicilio. Per i farmaci non serve più la ricetta cartacea da ritirare nello studio del medico curante prima di recarsi in farmacia. È sufficiente il numero di ricette elettronica che può essere inviato dal medico al proprio assistito con un SMS attraverso un messaggio di applicazioni come WhatsApp o Telegram. I limiti, le date delle udienze tributarie, sospensione per le udienze tributarie dal 9 marzo al prossimo 15 aprile. Le udienze sono congelate e rinviate d'ufficio a data da individuare con un provvedimento ulteriore ma comunque in data successiva al 15 di aprile. La tassa bollo auto regioni e proroghe alcune regioni stanno prorogando la scadenza del bollo auto in Piemonte e Toscana ad esempio è già stato deciso che il bollo in scadenza a marzo aprile e maggio si potrà pagare entro il 30 di giugno stessa data per l'Emilia Romagna per il bollo in scadenza a marzo aprile. Anche in Lombardia c'è tempo fino al 30 giugno per quella in scadenza dall'8 marzo dal 23 febbraio per i 10 comuni della zona rossa al 31 maggio. Il rinvio e trasmissione dei redditi a seguito dell'ecreto numero 9 2020 sono stati prorogati i termini di una serie di scadenze fiscali. Tra le varie proroghe figura anche quella al 31 marzo del termine entro cui i sostituti d'imposta devono trasmettere la certificazione unica. Proroga al 31 marzo anche la scadenza entro cui gli enti terzi tra cui banche e assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, aselinido e veterinari devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. L'accesso a 7.30 precompilato slitta dal 15 aprile al 5 di maggio. Giustizia, alta mediazione e negoziazione insieme ai provvedimenti per i processi civili sono state approvate anche modifiche alle procedure di mediazione obbligatoria per fronteggiare l'emergenza coronavirus. È stata stabilita la sospensione fino al 15 aprile. A partire dal 16 marzo i provvedimenti adottati dall'esecutivo hanno previsto che si può procedere in via telematica. Gli adempimenti successione stop ai termini pur non essendo indicato in maniera chiara e specifica direttamente nel decreto cura Italia, il Ministero dell'Economia ha chiedito che trattandosi di un adempimento che fa capo all'Agenzia delle Entrate per quanto concerne il pagamento dei tributi, sono sospesi anche i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione in base all'articolo 62 del decreto stesso. Altro argomento che troviamo in questo inserto del Corriere delle Alpi, assegni, nuove date con guagli, pensioni, così l'emergenza cambia le regole. E diamo quindi uno sguardo a questo inserto del Corriere. Pagamenti cambiano le modalità, cambia il modo di ritirare la pensione agli sportelli delle poste, la misura è destinata a chi ritira la prestazione in contanti o con un libretto postale non dotato di posta. Pagamento scaglionato su più giorni, ordine alfabetico in base al cognome del titolare delle prestazioni per la pensione di aprile, il pagamento è stato suddiviso così, il 26 marzo per la lettera da A a B e il 27 e il 28 rispettivamente per le lettere C e D ed E e K. Oggi, 30 marzo, tocca le lettere L e O, mentre domani, mercoledì, è il turno delle lettere P, R ed S e Z. Per gli uffici che aprono a giorni alterni sul sito dei posti italiani c'è il nuovo calendario. Certificazione unica, la certificazione unica IMSS 2020 per la dichiarazione dei redditi si può ottenere sul portale IMSS accedendo con PIN e dispositivo, SPID, CNS, carta nazionale dei servizi e carta d'identità elettronica. Erogazioni all'estero in merito al pagamento delle pensioni all'estero con il messaggio numero 1249 del 19 marzo, l'IMS ha comunicato che a causa dell'emergenza Covid-19 sono state sospese tutte le attività connesse all'accertamento in vita relative agli anni 2019-2020. La misura si resa necessaria per salvaguardare sia la salute dei pensionati sia quella di chi effettua le verifiche. Quota 100, l'IMS ha chiarito con una comunicazione che per il personale sanitario andato in pensione con quota 100 e richiamato in servizio in questi giorni per contrastare l'emergenza Covid-19, l'opzione quota 100 torna accumulabile con il reddito da lavoro autonomo. Per evitare che a medici e infermieri venga sospeso il pagamento della pensione, viene disapplicata la norma sul divieto di cumulo. Stop ai versamenti, stop ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 30 aprile per le aziende più colpite dall'emergenza coronavirus. Potranno usufruire della sospensione le aziende del settore del turismo, della ristorazione dei trasporti per i titolari di partita IVA di minore dimensione, al momento lo stop dei versamenti contributivi di autoliquidazione riguarda il periodo 8.31 marzo. Gli orari per l'assistenza IMS a distanza per affrontare l'emergenza coronavirus, l'IMS ha potenziato tutte le pratiche a distanza risposto già dai primi giorni di marzo che tutti i servizi informativi siano resi attraverso canali telefonici e telematici assicurati dal servizio di sportello telefonico provinciale, attivo nelle consuete fasce orarie di apertura al pubblico dalle 8.30 alle 12.30. Gli obblighi per le rate agevolate, avvisi bonari e cartelle esattoriali binari diversi, i dubbi e le risposte. Diamo uno sguardo quindi a domande e risposte. Chi per la rottamazione ha già pagato la rata a febbraio? Deve versare quella di maggio? Sì, la rata di maggio scade il 31 dello stesso mese e va pagata per non perdere i benefici della rottamazione. In realtà il 31 maggio è domenica, il termine diventa quindi lunedì 1 giugno. Invece chi non ha versato la rata del 28 febbraio dovrà farlo entro il 1 giugno per non perdere i benefici. Qual è il calendario preciso per non sbagliare i versamenti di saldo e stralcio? La rata del 20% in scadenza il 31 marzo è stata differita al 31 maggio, che però è una domenica, quindi come per tutte le scadenze è quella data a lunedì 1 giugno. I termini per le successive tre rate dal 15% luna restano al 31 luglio 2020, 31 marzo 2021 e 31 luglio 2021. Sono tutti sospesi gli accertamenti e controlli per l'emergenza virus? Si fermano le azioni di recupero cautelari come le ipoteche ed esecutivi come i pignoramenti, ma se si è in corso un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata è possibile comunque pagare e chiederne di conseguenza la cancellazione. Come funziona per quanti hanno in corso la rateizzazione delle cartelle esattoriali? Il pagamento delle rate e dei piani di dilazione è in corso, già scaduti dopo l'8 marzo in scadenza entro il 31 maggio 2020, è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020 per non perdere i benefici della rateizzazione. 5. Se è stata ricevuta una notifica prima della sospensione, si è obbligati a pagare lo stesso? I termini di pagamento sono sospesi fino al 31 maggio, ma il versamento va fatto entro il 30 giugno. Se il versamento è scaduto prima della sospensione, si deve pagare entro il 30 giugno. Se scade durante la sospensione, si può chiedere la rateizzazione entro il 30 giugno. Se l'Agenzia delle Entrate ha gli sportelli chiusi, come si verifica una pratica? L'Agenzia garantisce l'operatività dei servizi digitali e online oltre ai canali di contatto. E-mail numero unico 060101, potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili. Sul portale www.agenziaentratediscursione.gov.it esiste un'apposita sezione di assistenza. Ultima pagina di questo inserto del Corriere delle Alpi, il decalogo dell'emergenza, la vita di condominio tra divieti e nuovi limiti. Diamo quindi uno sguardo a queste 10 domande e risposte. Si può fare l'assemblea? Sono vietate le riunioni tradizionali permesse quelle a distanza, se in regola con le norme su convocazione dei libere. Accesso da PC, tablet, smartphone e telefono. Le piattaforme online permettono la registrazione dell'intera riunione. Due, urgenze in condominio. Come decidere senza assemblea? Secondo l'articolo 1135 del Codice Civile, sono decise dall'amministratore che riferisce alla prima assemblea. Le imprese coinvolte devono esercitare attività non sospese. La riparazione è possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili. Tre, pulizie in condominio. Quali sono le avvertenze antivirus? Secondo l'indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, è opportuno riorganizzare l'orario per limitare l'incontro con persone. Distanza di sicurezza del meno un metro. In caso contrario, il servizio va sospeso. Nel caso di presenza di casi di Covid-19, occorre applicare sui muri, pavimenti, porte, finestre, iploclorito di sodio allo 0,1% o etanolo al 70%, sempre dopo la pulizia, con detergenti, neutro e ventilazione. Quattro, spese, aumenti e acconti. Quali dilazioni possibili? La Rera, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, ha bloccato il distacco per morosità, ma non le bollette agli utenti. Solo nella prima zona rossa, gli amministratori di condominio richiedono ai condomini acconti determinati sulla ripartizione del preventivo dell'anno precedente. Cinque, ascensore. Quale attenzione per prevenire il contagio? Si prende uno alla volta, occorre sempre lavare e disinfettare le mani che tocchino maniglie e pulsanti. Sei, lavori straordinari. Quali lavori proseguono nell'emergenza? Le attività idili sono sospese. Per le altre attività consentite il coordinatore della sicurezza integra il piano di sicurezza con il protocollo di sicurezza anticontagio. Se l'impresa non si può adeguare, i lavori sono sospesi. Amministratore, attività chiusa o aperta? Le attività professionali non sono sospese. L'articolo 1, lettera C del DPCM del 22 marzo 2020, prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile, circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per l'assemblea condominiale. 8, posta ai pacchi. Come riceverli in sicurezza? Lettera ordinaria in cassetta. Per le raccomandate non serve la firma posta dal postino, ma solo la conferma voce della presenza. 9, consumi, acqua e riscaldamento. Come si rilevano? Solo da remoto, senza accesso fisico all'appartamento. In alternativa c'è l'autolettura. Ultima domanda, con ovviamente la risposta. Come si attiva la connessione per lo smart working? Richiesta all'operatore, accesso all'appartamento del gestore della rete e realizzazione della connessione in fibra, se l'edificio ne è fornito. Questo quindi l'inserto del Corriere delle Alpi dedicato all'emergenza coronavirus, con interessanti notizie che di certo saranno utili a molti di voi. Termina quindi questa edizione speciale di Edicola Belluna. a tutti voi un buon proseguimento di giornata e come sempre restate a casa.